Hey là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel mio nuovo canale Oggi sono qui tornata con un po' di raffreddore, quindi se sentite che ho una voce un po' strana sapete che cos'è Con un nuovo video a tema Busca Girl Ho dimenticato giù i miei scrunchie Moreremo tutti Comunque sono qui per farvi vedere come fare dei Busco Stickers o stickers e basta Per decorare i vostri quaderni, le vostre agende, la vostra scrivania, qualsiasi cosa in verità vogliate Pure le vostre cover, io ho decorato una mia cover Anzi se volete vedere le cover del mio telefono rispondete a questo sondaggio Sono dei procedimenti veramente veramente semplici Ma prima che il video cominci vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella Sempre se non l'avete ancora fatto Di lasciare un bel like e di commentare qui sotto se volete essere salutati nel prossimo video Le persone che saluterò in questo video verranno salutate alla fine del video Ok ho detto tipo quattro volte i video ma dettagli E niente io vi lascio al video Intanto parliamo di cosa sono questi Busco Stickers o stickers e basta Ne ho fatti un bel po' e sono dentro a questo contenitore di Tiger Quindi ve ne prendo proprio uno a caso Questo è uno dei più grandi stickers che ho Ed è questo bicchiere di Starbucks Praticamente cioè voi potete attaccare questi stickers dove volete Wow! E niente in questo video praticamente vi farò vedere come farli Per fare tutto ciò vi serviranno solamente tre cose Questi due tipi di scotch Questo è uno scotch normale Grande, largo, alto Potete utilizzare anche lo scotch quello normale Solamente che con questo vi velocizzate tutto il procedimento Mentre questo è un nastro adesivo sempre alto Bi adesivo Nel senso che è adesivo sia di qua togliendo la pellicolina Che da questa parte E una stampante perché appunto per stampare gli stickers E niente iniziamo Allora fra qualche secondo vi apparirà la registrazione schermo Perché sto utilizzando contemporaneamente il mio iMac In modo che voi possiate capire meglio i vari procedimenti Per trovare questi magnifici stickers Bisogna aprire l'applicazione Pinterest Se non ce l'avete è un'applicazione gratuita Potete tranquillamente scaricarla Allora appunto per prima cosa bisogna aprire questa applicazione Ci sono varie cose che voi dovete scrivere per trovare questi stickers Per esempio stickers e basta Oppure Redbubble stickers Oppure Aesthetic stickers Oppure Redbubble green stickers E tutti i vari colori Verranno fuori un sacco un sacco un sacco di stickers Ve lo posso assicurare Voi ne scegliete quanti ne volete In base a quanti punti ne volete Cliccate sui tre punti in alto e scarica immagine L'immagine vi scaricherà appunto in quella freccettina lì Se la state facendo dal computer E invece sul telefono nella galleria Aprite l'immagine E la trasportate in un documento Pages Anche Pages è tranquillamente Un'applicazione gratuita per chi ha Apple Altrimenti lo mettete in Word Così potete fare della grandezza che volete E le selezionate tutti Infatti come vedete qua Sto scorrendo e ce ne sono veramente un sacco Perché io le ho stampati tutti O quasi tutti Veramente Poi appunto cliccate sui tre pallini E cliccate stampa documento Appunto stampatelo a colori Se non li volete in bianco e nero Ma vi consiglio di stamparli a colori E vi verranno fuori appunto questi fogli qui Questi qua sono tutti gli stickers verdi Questi qua sono tutti gli stickers gialli Questi qua sono alcuni stickers che ho messo insieme Io molto carini E invece questi qua sono degli busco stickers Un po' a caso Appunto magari cercando su Pinterest Trovate anche delle pagine già messe insieme Di stickers che vi basta stampare Invece di metterle assieme Come stavo facendo qui Una volta stampati i vostri busco stickers Ok basta Qui dovete ritagliare E' una cosa molto molto noiosa Lo so Ci ho messo un sacco di tempo Però vedete tipo qui che c'è un doppio striscia bianca Ecco il dovete ritagliarli perfettamente E ve ne faccio vedere alcuni qui Che devo ancora rendere stickers Ma che per adesso intanto ho tagliato Questi qua di Sherek e di Spongebob Che sono quelli che vi ho fatto vedere tipo un minuto fa Poi vedete qui ho anche questa qui che è gigante Insomma ne ho un bel po' Sono tipo tutti questi Sono tutti dentro questa scatolina Sono veramente un sacco Vi giuro vi potete sbizzarrire Perché ne trovate veramente un sacco su Pinterest Una volta ritagliati tutti Che è un lavoraccio Ve lo posso assicurare E adesso passiamo alla vera e propria creazione Dei vostri stickers Dovete mettere la carta forno Prima non ve l'ho elencata Nei oggetti che vi servono Perché mi sono dimenticata Scudatemi Però dovete stendere un foglio di carta forno Poi dovete mettere il vostro nastro biadesivo Una volta steso tutto il vostro nastro biadesivo Dovete togliere appunto la pellicolina gialla Una volta tolta questa pellicola Dovete applicarvi sopra tutti i vostri stickers in fila Quanti ce ne stanno E poi dovete ripetere questa azione all'infinito E ricoprite i vostri stickers Con lo scotch normale In modo che diventino classificati come questi Una volta fatto questo Dovete ritagliare tutto Infatti è un po' un suicidio Infatti magari la prima volta potete ritagliarli un po' male E la seconda li rifinite bene 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 E li ritagliate uno ad uno E vengono fuori i vostri stickers Per applicarli è veramente veramente semplice Veramente ve lo giuro Per esempio prendiamo questo sticker Vedete c'è la carta forno qui dietro Basterà sollevare la carta forno E potrete applicare i vostri stickers Adesso vi faccio capire Questa è la carta forno Questo è il nastro biadesivo Che è questo qui A cui avete messo sopra il vostro stickers Poi ricoperto dallo scotch Fail raga Dallo scotch normale E quindi verrà fuori i vostri stickers Il tutorial è finito qui Come avete visto è molto molto semplice Sper tanto possa esservi stato utile Se è così lasciate un bel like Commentate qui sotto magari Se li avete fatti anche voi Io vi mando un bacione E adesso saluterò le persone Che dovrò salutare in questo video Allora in questo video salutiamo Quattro persone Mariam Un bacione Continua a seguirmi Lucia Vinci Guerra Spero di aver pronunciato bene il tuo cognome Un bacione anche a te Lucia Adwa Un bacione anche a te Adwa E l'ultima ma non meno importante persona Da salutare Anastasia Un bacione anche a te Anastasia Continua a seguirmi Appunto se volete essere salutati anche voi Nel prossimo video Basta commentare qui sotto Se mi sono dimenticata di salutare alcuni di voi Mi dispiace veramente tanto Magari lo ricommentate qui sotto Così vi ricordo sempre Di seguirmi sui miei social Vi lascio i nomi Qui sotto in info box E anche i link Ognuno di esce un nuovo video Buona giornata Ciao 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 Ciao